e i padroni di casa l'amporton e il figlio prego, vuoi giocare un attimo con l'animaletto? vuoi farci vedere com'è addomesticato? è bravo adesso si tratta bene? chi è che non ci fece come si tratta? bellissimo l'amporton rendici pieno ora, per questo nuovo giochetto per questo piccolo e divertente giochetto mi serve un'altra persona questa persona ho già in mente chi sia è un uomo smonta anche il mantello al solo pensarlo è l'uomo che cambia le mie notti chi è l'uomo che cambia le mie notti? come il tappetto d'olante vieni vuoi che chiamo il tuo fratello per una benedizione? non lo so, capelli bagnati che facciamo? vuoi benedirlo? si, ti sembrava il caso di fare quel gesto? porta sfiga è il tuo fratello ma porta sfiga lo stesso lo vuoi benedire? l'abbiamo già benedetto allora guarda io torno in tribuna con Raffaella si ciao Raffaella guarda prima che succede scusa che dovrei farci con quello? allora lì c'è le principette volevo vedere qualcosa di diverso io gli darei un'arma e poi farei come dice schiocco a cinque a cinque chi prende prima cinque colpi a cuori? io non arrivo manco a due non arrivo perché dove c'ho? gli possiamo dare un'arma? usa le mani per me può usare le mani anche per me potrebbe usare le mani anche se non penso sia degno di usare sono belle mani sono belle mani Lord Button chiedo scusa come mai ha ancora le belle mani di una volta? le tà sono fette ah ok no perché io me lo ricordavo diverso mio nipote una volta è praticamente uguale uguale? ha subito qualche alterazione no ma io approvo e alzati 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 becille eh vick non perchi prevello fai una cosa giusta vai in tutta la tua vita bene bene bene, un nuovo combattimento, come ne sapete, 5 golpi, i golpi doppi non valgono, ora combattete lord bolton, ma è bravo come mi ha detto, alza la testa, alzati in piedi, uno, questo occhio di corvo, uno, a zero, due, a zero, alzati, in piedi cane, lord bolton, ma che concetto di campioni avete voi a nord, tre, a zero, una vergogna sei, una vergogna, come tu padre, i piedi, io non vedo le principesse ridere, ma io preferrei gli alzieri di scendere in campo per provare il loro coraggio, siamo scemi, marito perdi e questa notte dormi da solo, io vorrei ammazzare, però dopo i botton vi potrebbero dire qualcosa, alzati, 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 alzati che una volta in tanto fiero sorridevi, ti piaceva sorridere una volta, ai Rick ci sei quasi, ti piaceva santo ridere che avevi avuto anche un cavallo con quel nome e te li vado a ammazzare, ammazzare, come li vorrei ammazzare te? Mio signore, calma, per favore, ma un marito, 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 non sei degno neanche di importare un'altra, questa cosa mi ha diluso, lo potete riportare al suo posto? Sulla croce, su, su, vado a rimontare, per mancare.